L'India è stata sotto dominazione islamica molto più a lungo di quanto sia stata colonia dell'Occidente, cioè della Gran Bretagna. Tutte le sue regioni più martoriate dalle guerre religiose sono vicine di solito alla frontiera nord dove poi si è creata la partizione con il Pakistan o alla frontiera orientale dove c'è Bangladesh, anche quello frutto di una secessione. Di tutte queste regioni la più cruciale è il Kashmir. Sotto il regno di Sikandar 1389-1413 il Kashmir subì conversioni forzate all'Islam e persecuzioni crudeli. Il Kashmir oggi è un territorio suddiviso in tre parti tra Cina, India e Pakistan. Le tensioni militari al confine tra India e Pakistan hanno prodotto un fenomeno anche folcloristico, hanno prodotto tante tragedie, ma c'è anche un fenomeno più divertente e leggero, la cerimonia dei Waga Attari, che dal 1959 si svolge in questa località detta Waga Attari, sul confine tra India e Pakistan, dove ogni giorno al tramonto si svolge questo rito molto buffo, anche se pervaso da un senso di minaccia. È la pantomima di uno scontro tra i soldati dei due paesi, soldati indiani e soldati pakistani. Questo scontro per fortuna lì viene soltanto sfiorato. È una commedia, è una rappresentazione. I soldati di entrambi i paesi che sfoggiano baffi e barbe curatissimi, marciano cercando di alzare la gamba il più possibile, il più alto possibile. La cerimonia si conclude per fortuna con questa simulazione di un conflitto senza spargimento di sangue e tra gli applausi dei turisti. Vediamo questo spettacolo.